Benvenuti in questo nuovo video, oggi proverò a zavorrare come se non ci fossero domani Nello streetlifting Ah e mo vi spiego cos'è lo streetlifting Cosa diavolo è lo streetlifting? Allora che cos'è lo streetlifting? Immagina di dover imparare il muscle up, che è già drammatica così Oppure, che ne so, tipo le prime trazioni, quando dovevi fare le prime trazioni sono toste per tutti Ecco, lo streetlifting è quello, è esattamente quello Ma con le zavorre Sono praticamente le principali skill di calisthenic, ma zavorrate Vuoi una spiegazione più dettagliata? Beh, lo streetlifting consiste in tre tentativi di sollevamento massimale su due esercizi Trazione o chin up e tip Alcune competizioni includono anche il muscle up e lo squat Ho letto su google, ovvio che sì Ma perché da quel che ne so io, lo streetlifting è uno sport abbastanza recente, abbastanza nuovo e poco conosciuto Ci sono infatti diverse filosofie, con diverse regole Beh, io non sono un professionista dello streetlifting, però mi piace l'energia che ci sta dietro E quindi voglio provarlo Soprattutto adesso che ho iniziato ad andare in palestra e che quindi posso permettermi di provarlo grazie all'attrezzatura Ma bando alle ciance, addentriamoci nel vivo Poi vedremo come si evolve la situazione Allora, vi ho risparmiato tutto il riscaldamento che sapete già è necessario, sempre, comunque Mignore, iniziamo la progressione Ovviamente non parto subito col carico massimo, ma cerco di arrivarci aumentando il peso gradualmente Non so se ci sia un ordine specifico di esercizi Nel senso se bisogna iniziare prima con il muscle up o con le trazioni, con i dip Ma non credo Io però voglio iniziare con le trazioni Presa inversa Che non mi piacciono, non le faccio mai Ma con le zavorre ho notato, non sono sicuro Che zavorre lo leggermente di più rispetto a quelle presa prona Perché credo sia più facile se attiva il bicipite Logdesk e bicipite Iniziamo con un Easy 36 Proviamo subito un presa inversa Ok, ora proviamo un 50 kg Ho iniziato a cambiare anche i pesi prendendo i dischi perché, porca miseria Ho notato che incide parecchio anche sulla prestazione la tipologia di peso che si tira su Avere troppi kettlebell inizia a farmi oscillare parecchio e lo trovo più difficile Vedrete poi nel muscle up che schifo Questi dischi qua invece sono un po' più fini 25-25 e tiriamo su questi Non me ne vogliate sul regolamento specifico perché non lo so Non so se bisogna partire a braccia tese, quanto tempo bisogna rimanere su A questo proposito se qualcuno di voi che mi segue è un professionista dello streetlifting Magari lo pratica regolarmente o ha gareggiato Mi faccia sapere e scriva nei commenti se dico qualche bagianata Proprio perché sono nuovo di questo settore Non l'ho mai fatto, non l'ho mai provato Quindi potrei anzi sicuramente sbagliare qualcosa Sono anche conscio di non avere proprio l'attrezzatura più adatta Però bisogna sempre fare il massimo che si può con quello che si ha Azzarderei senza pietà un 65 E vediamo come va su Madonna raga Mamma mia sono tantissimi Faccio fatica con le gambe raga Vai vai, più ci pensi peggio è Cazzo Credo di no Mi mancava poco così per superare col mento Quindi mi sa di no A 65 non ci sono arrivato Magari a 62 e mezza dai Quando ragazzi vi dico che io questa roba la provo per la prima volta E' proprio così Nel senso che mi sono allenato per la quasi totalità del tempo negli ultimi 4-5 anni a corpo libero E' vero che ho preso un giubbotto zavorrato Ma l'ho usato principalmente per fare delle sfide, delle challenge E in qualche rara occasione quella al parchetto Ma le zavorre io non le ho mai allenate Ed è per questo che sono proprio curioso di vedere come me la cavo Fate il tifo per me raga 62 e mezzo Dai sarebbe un bel numero Non lo so se valida raga Allora raga 62 e mezzo Col mento sono passato sopra L'ho sentita la sbarra sotto il mento Però non mi sono fermato un granché Quindi non lo so se valida I più esperti di voi mi facciano sapere nei commenti Potrebbe esserci Ora provo un 60 di garanzia di sicurezza Ma potrei avere anche un 62 e mezzo Per la prima volta che lo provo dai Sono soddisfatto Un'altra cosa che non mi è chiara Ma mi pare di aver capito che sia così E al contempo non trovo giusto Se è così Che le trazioni presa prona e presa inversa Vengono valutate allo stesso modo Cioè l'importante è che tu tiri su in trazione Il maggior carico possibile Non importa se sia a presa prona o presa inversa Secondo me a presa inversa è leggermente più facile Perché si attiva maggiormente il bicipile Quindi dovrebbe esserci una distinzione Però questa è una mia opinione Non sono sicuro di questa cosa In ogni caso io per sicurezza provo a presa inversa Ok ora direi che possiamo passare al carissimo Amatissimo Mascolap Iniziamo con un 10 Un po' kippato forse Proviamo Mascolap con 15 10 era un po' bruttino Non so più di 15 non penso di avercela Però proviamo 15 E se vi state chiedendo da dove arriva Tutta questa mia forza innata Catastrofica Anni potente e merito dei miei allenamenti Mi faccio un culo così ci mancherebbe Però devo anche ringraziare Prozis Che mantiene in vita i miei muscoli Dovete sapere che questo per me È il primo periodo della mia vita In cui io post workout Prendo sempre uno shaker proteico Ovviamente da quando ho trovato Delle proteine catastroficamente buone Ormai ve ne ho già parlato fino alla nausea Però io continuo a provare ogni gusto Giusto per avere un feedback generale Le mie preferite rimangono alla mela verde Ma anche queste qua all'ananas sono spettacolari E ovvio che se trovate un'integrazione Che vi piace Molto più facile anche seguirla Se avete bisogno di qualcosa E al contempo volete sostenere Questo canale che a malapena si sostiene da solo Potete passare dal mio codice sconto 810 Voi risparmiate E il Totopixel aiutate Ok Masso da 15 kg Brutto era brutto eh Anzi quello c'è da dirlo Però su ci sono andato dai Passiamo alla spinta Tocca ai dip Vediamo cosa combino lì Quindi cominciamo con un bel colpo da 50 E poi aumentiamo Buono Buono Andrei secco sul 70 70 Mentre faccio questa roba ragazzi Riflettevo sul fatto che Sono in questo periodo Fisicamente nel miglior periodo della mia vita Nel senso che Queste prestazioni che sto tenendo adesso Per le mie capacità Per i miei standard Non le ho mai avute prima Quindi non è per tirarmene in alcun modo Ma è un dato obiettivo Io attualmente ho costruito quelle che sono Le mie miglior prestazioni fisiche di sempre Che spero miglioreranno Ma so già che non dureranno per sempre Quindi mi piace provare anche queste cose Proprio per sfruttare al meglio Questo periodo Che so già che non sarà permanente Ed è bello È veramente soddisfacente Sorprendersi di se stessi Per me già fare un massolapo una volta era una cosa incredibile Figuriamoci farlo con una zavorra Quindi mi sorprendo sempre Delle capacità Che si riescono a ottenere Con un po' di dedizione Un po' di allenamento È bello Ci teniamo a dire È bello Andiamo avanti Abbiamo due dischi da 25 E un kettlebell da 20 Se la mia matematica è giusta Proviamo un 70 Che miseria Sono veramente tanti Ma dove non mi sento svenire Non lo so Forse due chili ancora ci sono Ma inizio a avere le braccia veramente disturte Quindi ragazzi facendo un recap dei risultati abbiamo 60 chili Rimarrei su 60 chili di trazione Che forse tra i vari tentativi è quella valida 15 chili di muscle up E 70 chili di dip Per non aver mai provato nulla di ciò Mi ritengo soddisfatto Sicuramente il tutto con un minimo di allenamento Può essere migliorabile Manca lo squat È vero Nello squat Ho un po' paura Ho un po' paura proprio perché Non allenando mai le gambe Non facendo alcun tipo di zavorra Né di peso Né di esercizio sulle gambe Provare un massimale Così da solo Mi sembrava un po' un azzardo Quindi ho preferito accantonarlo Ma arriverà Arriverà anche lo squat Sicuramente prima o poi E basta ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate qui nei commenti Ditemi dove ho sbagliato E cosa invece ho fatto giusto Fatemi sapere anche quanta ghisa Sollevate voi E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video Perché ci sarà sempre Un prossimo video Bom